Musica Lo sguardo che si perde nel panorama unico delle dolci colline iesine custodi di incantevoli borghi e di produzioni agricole d'eccellenza coltivazioni che appaiono come il dipinto di un artista attento e rispettoso dell'ambiente in cui vive come solo l'agricoltore sa essere In questa puntata di E tempo di agricoltura ci occuperemo in ambito di biodiversità agraria del carciofo precoce di Iesi La varietà è stata reperita nella zona riferibile al comune di Iesi sulla valle dell'Esino a circa 200 metri di altitudine ma la sua diffusione riguarda anche altri territori della provincia di Ancona come Monsano, Monte San Vito, Ostra, Belvedere Ostrense, San Paolo e San Marcello sede della società agricola Mosci dove ci siamo recati per saperne di più su questo prodotto della terra che ha delle caratteristiche molto interessanti Benvenuti nella mia azienda, siamo tre persone io, mio fratello e mio cugino Lorenzo che sono io, Paolo e Roberto siamo tre da una generazione che viene da mio padre, da mio zio da parecchi anni che facciamo questo lavoro il carciofo prima non lo avevamo mai preso in considerazione lo facciamo soltanto per casa, qualcosa adesso dagli ultimi 6 o 7 anni ci puntiamo molto su questa varietà e vediamo anche la soddisfazione di chi consuma il nostro carciofo che allora il piacere del consumatore porta a spingersi sempre di più e a fare sempre di più la scelta di recuperare il carciofo precoce è nata, oltre che per i motivi che ci ha appena illustrato anche per poter ancora di più radicare le sue produzioni al territorio? per diversificare la nostra azienda noi facciamo sia vino, lacrima, verdicchio poi facciamo i cereali, legumi, dai ceci, lenticchie, grano duro, girasoli tante colture, olivo soprattutto, c'è anche una certa quantità oltre alla piccola azienda come olificio ma il carciofo era una cosa che ci puntavamo molto perché è sempre bello, è sempre verde in più il consumatore quando assaggia questo carciofo gli piace noi abbiamo provato sinceramente anche altre varietà però questa varietà che viene dalla nostra vecchia generazione dalla storia in questo territorio dà un profumo diverso da tutte le altre varietà Produzione tipica marchigiana, il carciofo precoce di Iesi si distingue oltre che per la specificità della zona di produzione per le caratteristiche quali il colore che mescola varie tonalità di verde a sfumatore di viola, le dimensioni contenute e la raccolta precoce che solitamente inizia a marzo Ed eccoci di fronte ad una delle più belle infiorescenze bellissimo questo carciofo Lorenzo, qual è la tecnica, il taglio dove va effettuato per raccoglierlo? Il carciofo deve essere grande dai 7 ai 9 centimetri come dimensione Per la raccolta dobbiamo lasciare una foglia sotto non possiamo andare a tagliare più in basso perché laterale abbiamo altri carciofini questi sono pronti tra poco li vediamo allora il taglio del carciofo dobbiamo valutare la foglia dobbiamo lasciare e lo tagliamo così eccolo ecco il carciofo qui lo vediamo più verde questa è la parte più bella, più dorata quella che prende il sole questo è il cimarollo il primo carciofo che fa la pianta, che sta al centro poi vengono sui secondi in questa pianta ce ne abbiamo due uno, questo qui che verrà fuori tra 15 giorni abbiamo già il carciofo bello e questo è l'altro, il secondo normalmente le piante ne fanno tre uno, due, tre c'è anche il terzo e questi carciofini un po' più piccoli che raggiungeranno maturazione fra 15 giorni? tra 15 giorni raggiungeranno anche quella dimensione o no? raggiunge questa dimensione l'unica cosa questo è rotondo perché il cimarollo è pronto e l'altro viene schiacciato un pochino a tre grazie Lorenzo per ora noi ti lasciamo ma ti ritroveremo in fondo alla puntata perché andremo a scoprire come di questo frutto così bello e ricco di proprietà non si butta via assolutamente niente la Regione Marche nell'ambito delle politiche di sviluppo promozione e protezione degli agroecosistemi e delle produzioni di qualità ha approvato la legge regionale 3 giugno 2013 numero 12 tutela delle risorse genetiche animali e vegetali nel territorio marchigiano l'Assam, come stabilito nel Regolamento Attuativo numero 21-2004 di questa importante legge regionale cura l'attuazione dei programmi pluriannali e annuali in materia di tutela della biodiversità per il sistema agricolo e gestisce i due strumenti operativi il repertorio regionale e la rete di conservazione e sicurezza All'interno del progetto biodiversità Assam Marche questo prodotto si inserisce perfettamente? Il carciofo Iesino è un'accessione proprio del repertorio della biodiversità agraria delle Marche la Regione appunto si è dotata di una legge dal 2003 la legge è la numero 12 per tutelare la biodiversità quindi questo termine un po' ampio che va proprio a descrivere la diversità biologica della nostra Regione ci occupiamo della parte dell'aspetto agrario quindi tutte le vecchie varietà che erano diffuse nella nostra Regione varietà e razze animali che un tempo venivano allevate e sono andate scomparendo appunto sia per l'evoluzione proprio agricola e quindi la ricerca di nuove varietà più produttive o magari resistenti a determinate patologie ma queste antiche varietà varietà locali, razze locali sono fondamentali e importanti perché ci raccontano molto dell'ambiente e l'interazione che hanno con esso stabilito e molto anche della storia locale delle tradizioni, delle usanze anche spesso proprio nei nomi delle varie accessioni e riscopriamo la storia e quindi l'obiettivo è proprio questo recuperare la parte genetica della nostra Regione ma anche la parte storico-culturale il carciofo Iesino rientra in questo repertorio perché è uno degli aspetti operativi proprio della legge il repertorio regionale e la rete di conservazione e sicurezza e quindi abbiamo da una parte gli agricoltori custodi che conservano in situ quindi nell'areale di adattamento proprio della varietà e poi ci sono ex situ quindi lontani dall'azienda la banca del germoplasma per la parte erbacea quindi i semi di tutte le varietà i campi catalogo invece riguardano la parte arborea quindi piante da frutto olivi, vite tutto quello che abbiamo recuperato nel territorio le figure più importanti fondamentali sono gli agricoltori custodi come Lorenzo coloro che anche prima della legge hanno sempre creduto in queste varietà perché spesso sono state sostituite anche perché forse più complicate o meno redditizie sicuramente meno produttive più appunto impegnative da un punto di vista proprio culturale però questo carciofo come altre varietà raccontano insomma il territorio quindi anche a livello di gusto o comunque di temporalità nella cultura ci racconta molto di questo terzo aspetto della legge che è proprio quello della valorizzazione perché andando a diciamo sensibilizzare chi può essere interessato a questi argomenti farli assaggiare perché poi tutto era legato a questo si parla del prodotto si parla di questo territorio quindi in questo caso lo iesino e quindi solo qua tutto a senso perché poi perderebbe molte delle sue proprietà o caratteristiche coltivato in un altro luogo in un altro terreno con un altro clima con un'altra esposizione del versante i carciofi sono alimenti molto interessanti hanno un sapore deciso una buona consistenza e da un punto di vista nutrizionale forniscono pochissime calorie inoltre hanno un'alta digeribilità un effetto antiossidante e antireumatico e contengono una sostanza molto importante la cinarina che opera un'azione efficace nelle lesioni epatiche e renali favorisce la secrezione biliare la diuresi e abbassa il colesterolo nel sangue tra l'università politecnica delle Marche facoltà di medicina e l'assam c'è una stretta collaborazione scientifica in che senso? noi che ci occupiamo di alimentazione salute di aspetti biochimico nutrizionali abbiamo pensato che fosse importante collaborare con l'assam e con questa istituzione regionale per dare un nostro contributo e valorizzare i numerosissimi prodotti inseriti nel repertorio della biodiversità agraria visto che parliamo di aspetti nutrizionali quali sono quelli che possiamo in qualche modo raccontare per il carciofo? tutti i nutrizionisti danno una grandissima rilevanza a tutti i prodotti vegetali dovremmo mangiarne cinque più porzioni al giorno in questa stagione perché è importante anche passare il messaggio della stagionalità ecco che uno dei prodotti che possono agghettare le nostre tavole sono proprio i carciofi meriterebbero di essere più presenti perché anche sulla base delle nostre ricerche hanno diversi aspetti nutrizionali importanti per il contenuto in fibre e in polifenoli infatti vediamo queste sfumature violette dipendono dalla sintesi di molecole i polifenoli che sono composti bioattivi vuol dire che queste molecole una volta che noi le assumiamo con questi alimenti sono biodisponibili e arrivano ai vari tessuti e esercitano ruoli protettivi quindi quando parliamo di alimentazione che contiene ortaggi frutta nelle proprie scelte alimentari questo significa veicolare nel nostro organismo dei composti che ci aiutano a proteggerci dal danno ossidativo e anche da processi infiammatori poi il contenuto in fibre è uno degli ortaggi più ricchi di inulina l'inulina è una molecola su cui si lavora tantissimo da qualche anno perché è una molecola che aiuta la flora microbica intestinale e soprattutto aiuta a crescere dei batteri che hanno un effetto positivo a livello intestinale quindi questi due aspetti sono quelli sicuramente che contraddistinguono di più questo ortaggio ci sono anche altri aspetti non dimentichiamo che come tutti i vegetali è una fonte di minerali ferro calcio e anche di vitamine ovviamente non dimentichiamo anche questi fattori andiamo a scoprire sempre di più come a volte un ortaggio che noi siamo abituati a mangiare a vedere sulla tavola poi ha delle proprietà molto più ampie di quelle che pensavamo esatto e poi una cosa che vorrei aggiungere è che un po' tutti questi organi della pianta possono essere usati in cucina si parla spesso di sprechi alimentari ecco questo ortaggio ci dà l'opportunità di usare l'infiorescenza di usare la parte più legnosa e anche le foglie per cui anche conoscere di più queste possibilità in cucina meriterebbero appunto di essere divulgate Ciamar che sul fronte del rilancio di produzione di nicchia che rispettano precise caratteristiche di elevato valore salutistico e di storicità per determinati territori ha profuso sempre un particolare impegno Ciamar per me sono 25 anni che si sta impegnando a riscoprire diciamo così le tradizioni e le tipicità marchigiane da questo punto di vista oggi siamo in una realtà che è la Valle Sina che è il carcioco precoce di Iesi che era una realtà estremamente importante insieme al cavolfiore iesino di questa vallata che però col tempo è completamente scomparso e quindi dobbiamo dire grazie a quei pochi agricoltori che ancora stanno credendo nella riscoperta e rivalutizzazione di questo prodotto che altrimenti era perduta nella memoria riscoprire un prodotto significa comunque avventurarsi in una sfida senza altro da questo punto di vista questo è ovvio però significa anche in qualche modo andare a incentrarsi su un mercato che è sempre più attento a questi elementi e tra l'altro anche dare una valenza diciamo sì economica al territorio stesso di origine di questo prodotto quindi una tracciabilità maggiore una maggiore garanzia delle origini del prodotto e una maggiore garanzia anche delle qualità specifiche che questi prodotti abbandonati perché i moderni ibridi ovviamente sono maggiormente produttivi però hanno dal punto di vista salutista dal punto di vista nutraceutico degli elementi delle valenze indubbiamente molto superiori quindi il moderno consumatore attento anche a questi aspetti salutistici apprezza indubbiamente anche questi prodotti della tradizione oggi in realtà ci presentate il carciofo precoce di Iesi un po' come il simbolo della biodiversità sì ovviamente ce ne sono tantissime di cultivar a razze da questo punto di vista che sono veramente specifiche del nostro territorio noi abbiamo voluto sceglierne una tanto per rappresentare un po' tutto quanto il mondo possibile della biodiversità che è stata repertoriata nell'ambito della legge 12 del 2003 a parte dell'Assam e abbiamo scelto appunto il carciofo Iesino in chiusura come promesso abbiamo raggiunto questa bella tavola dove andremo finalmente a conoscere l'utilizzo finale del carciofo precoce di Iesi e ci hanno raggiunto anche alcuni collaboratori dell'azienda Mosci Lorenzo adesso vogliamo conoscere i segreti di queste ricette veloci ma molto salutari qui vediamo il carciofo cotto su alla brace proprio sul carbone e cenere messo il carciofo intero così tagliato soltanto sopra e messo all'interno del prezzemolo e laglietti freschi qui abbiamo il carciofo fritto fritto con l'olio di extravergine d'oliva con il ritorno della pastella con farina e uovo e qui ce l'abbiamo in padella già pulito e sempre con il laglietto il prezzemolo e vino qui avanti vediamo il sott'olio il carciofino quello piccolo non avendo più carciofo così bene che abbiamo il carciofino quello piccolo tagliato e messo sott'olio in questa forma lo possiamo fare sia mettendolo sott'olio oppure mettono nel congelatore e qui troviamo il cuore del carciofo troviamo il cuore del carciofo quando lei parla del filo d'olio con cui condire questa pietanza parliamo dell'olio che produce la sua azienda e quindi rigorosamente extravergine extravergine e in questo abbinamento possiamo anche usare un mono varietale di oliva raggia che è tipica di questa zona quale vino potremmo offrire con questo piatto io dalla mia esperienza metto un verdicchio e quindi rimaniamo sul territorio sul territorio sì farei l'abbinamento più con un bianco che con il rosso noi siamo molto curiosi le ricette van benissimo ma a proposito del non buttare via nulla cosa si può fare con la foglia? noi come azienda le foglie una volta finita la raccolta del carciofo non le buttiamo via le raccogliamo foglia per foglia poi le mettiamo ad asciugare sopra al residuo che rimane della pianta del carciofo una volta essiccate le facciamo le comprimiamo facciamo delle piccole ballette tipo le balline quelle del fieno e poi queste una volta asciugate le mandiamo a una ditta per fare l'amaro e dopo questa bellissima spiegazione devo dire che un po' di appetito è arrivato per tutti io proseguirei un po' su questo tema e parliamo di nutrizione qualcosa ci ha già accennato vediamo l'olio extravergine vediamo i carciofi cucinati in diversi modi direi che entrambi ortaggi olio extravergine sono protagonisti dell'alimentazione mediterranea qui vediamo diverse combinazioni ortaggi erbe aromatiche l'olio extravergine come possiamo coniugare gusto salute nutrizione a tavola manca di ricordare un bell'appuntamento che sarà a Serra Petrona quando parleremo ancora di biodiversità agraria l'appuntamento per quest'anno è il 20 e il 21 maggio a Serra Petrona il 20 maggio è la giornata nazionale della biodiversità agraria istituito dalla legge nazionale un festival della biodiversità itinerante quest'anno l'appuntamento è appunto a Serra Petrona tanti approfondimenti anche da un punto di vista nutrizionale e una mostra a mercato quindi gli agricoltori custodi porteranno i loro prodotti racconteranno le loro aziende e poi assaggeremo la biodiversità a tavola piace anche a me ricordare l'appuntamento a Serra Petrona anche perché è zona sismica cratere e sarebbe molto simpatica appunto rilanciare quel territorio ripartendo la loro tradizione e l'ottipicità e l'ottipicità